Ciao! Oggi vi porto a vedere che cosa succede al carnevale di Borgosesia. Terza e ultima domenica di sfilate, quindi oggi è tutto a GoPro. Arrivo, mi vesto e mi preparo. Il clima di festa si prepara ad invadere per un mese le vie e le piazze della città. Guardate qui all'apparenza niente, se mi giro, vie deserte, ma tra mezz'ora vi dico che si scaricherà il bordello. Una storia centenaria quella di questo carnevale. Non so, per te che è il naso rosso. Vai, vai. E va bene. No, cacchio, grazie. Ragazzi, come state? Io devo documentare un po' tutto. Un susseguirsi di beglioni danzanti, di pranzi e serate enogastronomiche. Tutta fortuna, insieme a Giulia Surace. Ciao, dove sei? Giornate, tre domeniche per l'esattezza ad ingresso gratuito. La piazza qui ora è, diciamo, similvuota con i carri fermi. Adesso vado a beccare Paolo. Sai che non si può mandare in onda la famiglia? Non si può, non si può. La famiglia. Hi, Giulia. Come è il mio angelo, il mio pronuncio? It's ok. It's ok. Una festa, quella del carnevale di Borgosesia, che dura un mese e si conclude proprio con il mercoledì delle cene. Tu sai già chi vince, tu lo sai già dalla prima domenica. Grazie. Prego. La cassa spia. Senti, mi ha detto che hai fatto serati. C'è solo una. Sì, sì, ho lavorato. Questa è la terza e ultima domenica di sfilate. In piaccia? Orrelle, c'è il mio pronuncio. Non è piaccia? Me, le trompezzblot. Io sono stato il DJ sul carro del rione Fornace. Guardate la terrazza Vipa. C'è una premiazione, siamo tutti riuniti qui, guardate. È tutto sveglio. Prego, sindaco. Premiazione, guardate che casino. Siamo quasi pronti ad iniziare questa cerimonia. Magari. Più foro. C'è un po' di piaccia. Sì, voglio. Speriamo. Al terzo posto, non mi avete fatto niente. Siamo arrivati terzo, comunque sul podio. La rivederci quindi è alla prossima edizione. Sempre qui, con il carnevale di Borgosesia. Benissimo, ciao. Guarda.